Barbara Bush avrebbe deciso di non ricorrere a aggiuntivi trattamenti a livello medico. L'ex first lady, che ormai ha 92 anni d'età, moglie dell'ex presidente USA George Bush, sarebbe stata sottoposta recentemente ad alcuni ricoveri ospedalieri. La decisione sarebbe arrivata pubblicando l'autista su Twitter proprio dal portavoce della famiglia Bush, che si chiama Jim McGrath. È stata presa dopo aver consultato la famiglia, ma anche i diversi medici che si occupano della donna e della famiglia in questione. Ringrazio per l'ascolto e per la visione, un caro saluto a voi tutti e al prossimo video. Grazie.